signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da una assoluta chicca appena reperita la polo della nazionale americana di rugby a 13 una autentica sciccheria che oggettivamente mi sta d'incanto e mi fa sembrare ancora più figo e più bello ma vabbè lo sapete bene sono valitoso e non ci posso far nulla allora torniamo seri perché questa sera affronteremo un argomento molto particolare che sono sicuro darà parecchio da discutere allora come ben sapete qualche giorno fa io ho recuperato questo libro intitolato obiettivo italia i bombardamenti aerei delle città italiane dal 40 al 45 un'opera scritta da giorgio bonacina in cui si affronta il delicato spinoso e soprattutto fondamentale tema dei bombardamenti alleati sul suolo italiano ma anche sul suolo europeo sui cieli tedeschi sul suolo tedesco è un'opera questa di bonacina che poi troverà un seguito ideale nel ben più completo e ben più esaustivo comando bombardieri scritto nel 1977 che conto di recensire quanto prima ok però sentiamo un attimo allora bonacina oltre ad esaminare le incursioni su territorio italiano oltre a parlare della strategia e della tattica del bomber command sul sul sui cieli europei ed italiani ci parla anche della personalità e del carattere del comandante in capo del bomber command ovvero sia il maresciallo dell'aria sir airtour travers harris detto the butcher detto il macellaio l'uomo che come dire rese il bomber command l'arma strategica definitiva e potentissima che contribui grandemente a mettere in ginocchio la germania nazista è stato spesso detto che gli alleati occidentali non avevano alcun bisogno di un forte esercito di terra perché a quello ci pensava la russia così come è stato detto che la russia non aveva alcun bisogno di un'aviazione strategica per colpire la germania perché a quello ci pensavano la raf e la us army air force ok ma sentiamo un po che cosa ci dice bonacina a proposito della personalità di sir di sir arthur harris allora allora ci dice praticamente una volta di più abbiamo dovuto diffonderci in particolari che forse saranno apparsi fuori tema ma l'esposizione dei primi bombardamenti a zone subiti dalla germania era necessaria per esemplificare un metodo che purtroppo anche l'italia stava ormai per conoscerci e allora è giunto il momento di chiederci che cosa provava harris che cosa provavano gli equipaggi a colpire così così tremendamente delle città dove vivevano degli innocenti la risposta non è difficile ma è complessa perché offre molte sfaccettature ed esige alcune premesse harris non era un macellaio sebbene dal loro punto di vista molti ragazzi del bomber command non avessero torto a chiamarlo così egli credeva fermamente che non ci fosse altro mezzo per inchiodare l'industria nemica gli si può dare torto con il senno di poi si può condannare la sua ostinatezza nell'aver mantenuto inalterate le proprie convinzioni anche quando i mezzi oggettivi per cambiare sistema furono scoperti e collaudati ma non si può mettere in dubbio la sua buona fede e qui prestati orecchio a quello che ci scrive bonacina perché è una cosa estremamente importante allora il fatto è che harris possedeva una grande intelligenza settoriale cioè percepiva in maniera estremamente chiara ogni cosa nell'ambito dei suoi disegni ma gli mancava una visione a largo raggio delle necessità del conflitto avete presente rommel e la sua scarsa sensibilità del fattore strategico più o meno siamo lì signore allora harris non era né voleva essere un politico e non amava i contatti con gli altri per paradosso non era neppure un militare tipico era un tecnocrate piuttosto come l'americano henry hap arnold il suo contraltare come capo della ottava arma della della ottava forza aerea distanza in inghilterra e ma arnold hap arnold era infinitamente più elastico e flessibile di harris concettualmente più disponibile e aperto ai mutamenti inoltre occupava una posizione che gli impediva di avere delle preferenze dato che ne avesse verso questa o quella specialità delle army air forces come uomo harris era certo un duro ma sarebbe ingiusto sostenere che non gli importasse nulla delle vittime che faceva anche se non le giudicava poi tanto innocenti uno dei suoi scopi era di fare dei senza tetto e degli sbandati non dei morti se avesse potuto evitare in qualche maniera che le bombe causassero del sangue oltre che delle rovine fumanti l'avrebbe evitato ma ecco che il discorso si fa già futile anche hitler se avesse potuto far diventare ariani e biondi gli ebrei anziché ammazzarli dopo averli ridotti a larve non li avrebbe ammazzati il paradosso che fa bonacina è piuttosto pesante ma oserei dire anche calzante se rende l'idea comunque sia continuiamo nell'impossibilità di risparmiare vite umane dato il metodo dell'area bombing harris dormì sonni tranquilli è vero che dormiva pochissimo un po per abitudine un po per inderogabilità di lavoro ma questa tuttavia è un'altra questione allora signori queste poche parole scritte da giorgio bonacina a proposito del comandante del bomber command oserei dire che sono decisamente illuminanti perché ci spiegano molto bene la personalità dell'uomo che condusse per lunghi anni la campagna di bombardamento strategico sulla germania nazista sull'europa occupata e anche sul territorio italiano harris come dice giustamente bonacina non era un macellaio che mandava al massacro i suoi uomini perché ricordiamoci una cosa le perdite dei degli uomini della raf sui cieli della germania durante la seconda guerra mondiale furono qualche cosa di spaventoso cioè ci furono delle perdite spaventose il bomber command durante i bombardamenti sulla germania ebbe delle perdite spaventose e soprattutto bonacina giustamente punta il dito contro uno dei limiti più grossi e più gravi del personaggio harris ovvero ossia la sua incapacità di derogare alle proprie convinzioni essendo come dire un tecnocrate più che un militare vero e proprio harris era un tecnocrate era un uomo che poteva mettere in pratica le teorie in cui credeva usando la tecnologia che aveva a disposizione e come ben sappiamo nel corso degli anni il bomber command della royal air force divenne un'arma micidiale e ragionevolmente precisa in grado di colpire con spietata durezza con una grande differenza dagli stentati esordi del 39 40 in cui se vogliamo era difficile piazzare una tonnellata di bombe nel raggio di 5 chilometri dal bersaglio per dire alla fine della guerra sappiamo bene che la precisione pur sempre relativa rispetto ai limiti della tecnologia dell'epoca le prestazioni del bomber command come arma strategica divennero praticamente perfette se vogliamo la tragedia di dresda è un chiarissimo esempio di come il bomber command fu in grado di evolversi come arma strategica ok harris per tutta la durata della guerra e non riuscì mai a derogare alle sue ferree convinzioni la sua idea di colpire spietatamente le città e le popolazioni e le popolazioni e le popolazioni dell'europa occupata dell'italia e della germania derivavano essenzialmente da una cosa quelle città non potendo colpire con la precisione voluta i bersagli strategici a cui si pensava ripeto fabbriche per quasi due anni dal 39 al 41 circa per quasi due anni il bomber command cercò disperatamente di bombardare con precisione di notte la germania di bombardare obiettivi precisi in germania ma non ci riuscì per i limiti tecnologici dell'epoca eh signori e decine e decine di avviatori del bomber command ogni notte durante le missioni di bombardamento sulla germania non ritornavano a casa per cosa praticamente per niente ok ripeto per i primi anni di guerra la media di precisione del bomber command sulla germania era di piazzare una tonnellata di bombe in un raggio di un chilometro e mezzo degli equipaggi non tornavano a casa si trattava di un prezzo estremamente salato per le forze da bombardamento insomma per il bomber command Harris decise di cominciare a bombardare la popolazione civile di cominciare a bombardare le città perché non potendo fisicamente riuscire a colpire gli obiettivi di precisione per i limiti della tecnologia gli inglesi iniziarono la campagna dei bombardamenti cosiddetti terroristici del cosiddetto area bombing ovvero sia noi spianiamo tutto quello che c'è distruggendo le case così gli operai non potranno lavorare nelle fabbriche cioè non potendo lavorare nelle fabbriche distruggendo se possibile anche obiettivi militari l'idea di Harris era quella semplice e brutale se vogliamo di seminare morte e distruzione sulla germania colpendo in maniera dura e spietata obiettivi sensibili brutto dirlo ma è così la guerra signori la guerra oggettivamente oggettivamente c'è da dire una cosa è crudele? sì perché la guerra è crudeltà è spietatezza? sì perché la guerra è spietatezza è crimine di guerra? beh signori che ci crediate o meno questo proprio no crimine di guerra ve lo ripeto è pianificare la distruzione di una città come Varsavia distruggendone opere d'arte, musei, edifici storici, archivi guardatevi su wikipedia allora wikipedia ha un valore relativo ma è interessante come fonte guardate su wikipedia in inglese perché in italiano non c'è Planned Destruction of Warsaw ok? la distruzione pianificata di Varsavia leggetevi i piani che aveva Hitler per Varsavia la distruzione completa di ogni monumento la distruzione completa di ogni chiesa di ogni palazzo di ogni qualsiasi edificio che avesse una funzione storica la distruzione dei musei delle opere d'arte dei simboli della cultura polacca degli archivi che custodivano i documenti storici della Polonia a Varsavia distruzione che fu effettuata fino al 98% io ancora devo sentire uno di coloro che si addolora per Dresda osare fiatare a proposito di quello che i tedeschi combinarono a Varsavia Dresda fu distrutta? verissimo è vero ma c'erano degli obiettivi Varsavia fu cancellata letteralmente ogni traccia della storia, della cultura delle radici di Varsavia fu volutamente, spietatamente cancellata perché non doveva restare traccia della storia e della cultura del popolo polacco Eris, questo qui, oggettivamente non lo ebbe mai in mente e per quanto mi costi difendere il personaggio c'è una certa differenza tra Butcher, Eris e i suoi contraltari tedeschi i tedeschi, la Luftwaffe se ne avesse avuto la forza e le capacità avrebbe fatto ben di peggio rispetto al bomber command e lo dimostrò dove? a Rotterdam lo dimostrò a Varsavia lo dimostrò a Belgrado che putacaso ironia della sorte sono gli unici tre bombardamenti della seconda guerra mondiale riconosciuti come crimine di guerra vi fa un po' pensare questa cosa? pensateci un attimo dicevo Eris Eris nelle parole di Bonacina ne emerge la figura di un uomo rigido di un uomo intelligente ma dall'intelligenza come dire limitata ad un unico settore del suo lavoro un uomo che dovendo fare un paragone come Rommel non aveva un grande senso strategico era un uomo che faceva fatica a derogare alle sue convinzioni e quando lo fece lo fece optortocollo salvo poi come dire fare proprie le idee che gli avevano imposto perché aveva scoperto che funzionavano e come dire come Rommel non era tra virgolette in grado di guardare a quello che c'era oltre la collina avrebbe continuato praticamente per tutta la guerra nella campagna di bombardamento sulle città trascurando che cosa? i siti di produzione della benzina sintetica delle acciaierie delle fabbriche e se uno ci pensa questo è un grave limite di Harris ma qui entriamo nei limiti della mentalità del personaggio Harris era un uomo estremamente intelligente estremamente abile estremamente capace ma aveva una intelligenza settoriale non era in grado di allargare le sue prospettive per limiti mentali per formazione per carattere per testardaggine per brutalità anche se possiamo dire ma ricordiamoci una cosa quello che fece il Bomber Command era guerra contrariamente a quelli che dicono in tanti contrariamente a quello che dicono in tanti il Bomber Command fu veramente una delle armi che permise agli alleati occidentali e ai russi di vincere la guerra ok la campagna di bombardamento terroristico sulla Germania che doveva servire a fiaccare il morale della popolazione raggiunse parzialmente il suo scopo il morale della popolazione tedesca non crollò questo è vero ma ne risentì gravemente la produzione bellica in tanti si affannano a dire ah non è vero perché nel 43 la produzione aumentò nel 44 la produzione aumentò eccetera 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 è vero che aumentò ma aumentò perché? perché Speer ci aveva messo le mani riorganizzando il caos chiamiamolo con il suo nome il caos della produzione bellica tedesca uno due molte fabbriche erano state messe sottoterra e quindi erano diventate irraggiungibili dalle bombe inglesi e americane ok? ma di quanto sarebbe potuto aumentare la produzione bellica tedesca senza le campagne di bombardamento di Harris un operaio stanco che magari ha perso la casa che magari come dire è stato colpito duramente perché nei bombardamenti ha perso amici parenti familiari eccetera eccetera quanto poteva essere più inefficiente al lavoro e quindi rendere come dire e quindi colpire in maniera indiretta questa cosa colpiva in maniera indiretta la produzione bellica tedesca non potendo colpire o non riuscendo a colpire gli obiettivi strategici si colpiva chi negli obiettivi strategici ci lavorava cercando di fiaccarne il morale cercando di fiaccarne il fisico un operaio addetto al tornio per la fabbricazione che ne so degli otturatori dei canoni dei canoni per i carri armati per dire se va al lavoro senza essersi riposato perché ha perso la casa perché magari gli hanno ammazzato le bombe gli hanno ammazzati i parenti perché non sa più dove andare perché non è riposato non ha dormito è stanco è affamato è spaventato dai bombardamenti sicuramente quell'operaio lavora meno bene rispetto ad una ad un operaio che ha potuto dormire che si è potuto riposare che dorme nella sua casa che è al sicuro o quasi per quanto sia brutale il discorso per quanto che sia crudele per quanto che sia inumano Harris non aveva tutti i torti a ragionare così il torto Harris lo ebbe quando si rifiutò di modificare la sua concezione del bombardamento anche quando nel corso della guerra gli strumenti di puntamento gli strumenti di puntamento di navigazione per i bombardieri furono migliorati e portati quasi alla perfezione ripeto per la tecnologia dell'epoca ok che cosa succede succede che Harris non accettò veramente storcendo la bocca l'idea di smettere di colpire le città per concentrarsi sugli impianti di produzione del carburante sugli snodi ferroviari sui nodi di comunicazione sulle fabbriche di armamenti di automezzi e sui cantieri navali questo fu il grande limite di Harris ma ripeto Harris non pianificò mai nulla di così atroce come la distruzione pianificata di Varsavia ad opera dei tedeschi e soprattutto Harris non ebbe mai in mente qualche cosa come quello che Hitler aveva in mente per Mosca circondare la città aprire le chiuse dei canali e dei fiumi attorno a Mosca e sommergerla sotto 20 metri d'acqua con tutti gli abitanti dentro Harris era un uomo devoto al suo lavoro era un uomo intelligente capace un grande organizzatore un uomo freddo un uomo deciso un uomo che si assunse la responsabilità del comando che si assunse la responsabilità delle sue azioni ma furono le azioni di Harris per quanto dure per quanto terribile e per quanto apparentemente crudeli poco o nulla hanno a che fare con cose come Marzabotto Baviar Sant'Anna di Stazema Vilnius Auschwitz Birkenau Dachau erano azioni belliche i bombardieri di Harris volavano sui cieli tedeschi e venivano affrontati dai caccia e dalla contraerea combattevano per cosa? per colpire le industrie e la mano d'opera della Germania nazista del paese con cui l'Inghilterra era in guerra quello non è un crimine di guerra a rigordi logica crimine di guerra è assassinare a sangue freddo uomini donne e bambini in nome della razza ariana superiore discorso banale fate un po' come cazzo vi pare però oggettivamente la verità è questa Harris per quanto abbia fatto un sacco di morti non è sicuramente paragonabile se vogliamo a Himmler a Heidrich o a Dirlewanger per fare un esempio Harris era un tecnocrate era un uomo che faceva il suo mestiere era un militare duro crudele cioè duro non tanto crudele ma deciso che sapeva essere spietato che sapeva essere un uomo dannatamente dannatamente crudo ma 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 c'è una certa differenza e non da poco tra lui e certa gente con l'aquila sul petto c'era una certa differenza la cosiddetta superiorità morale allora sappiamo bene gli alleati non erano santi Harris non era un santo ok ma gli alleati non combinarono mai nulla di paragonabile ad Auschwitz Dachau o Birkenau eh gli alleati non combinarono mai nulla di paragonabile a quello che accadde a Oradur a Lidice non combinarono mai nulla di paragonabile a quello che accadde a Babi Yar ok gli alleati non pensarono mai lontanamente di fare una cosa come quella che accadde in Lituania dove la Lituania fu dichiarata dopo solo un anno di occupazione tedesca come Judenfrei con il 20% della popolazione lituana gli ebrei erano il 20% della popolazione lituana sterminati a sangue freddo e di solito chi critica Harris è gente che quando si fanno presente queste cose che cosa fa? Glissa che ha tutto l'interesse a dire a dire ah ma Harris era un criminale era un criminale di guerra Dresda crimine di guerra Hiroshima e Nagasaki crimine di guerra signori io l'ho detto spesso e lo ripeto a costo di sembrare un antipatico a costo di sembrare una grandissima testa di cazzo ma ci volete ragionare su queste cose? ci volete ragionare su queste cose? c'è molta gente molta gente che parla a sproposito di Harris come macellaio di Harris come criminale di guerra del bombardamento della della strategia del bombardamento a zona del bombardamento a tappeto come crimine di guerra spesso e volentieri lo fa per quello che il mio amico Fabiano Fava definisce benaltrismo ovvero sia la ricerca di una cosa di consolazione Fabiano Fava con un termine estremamente azzeccato cioè Dresda le foibe Hiroshima Nagasaki eccetera eccetera sono diventate le Shoah di consolazione di gente di gente che sappiamo benissimo per chi fa il tifo quindi quando si parla di Arthur Harris come di macellaio come di persona crudele come di criminale di guerra pensateci bene da che parte vengono queste accuse Harris ripeto non era uno stingo di santo sicuramente era un uomo che sapeva essere spietato e durissimo era un comandante sotto il quale devo essere sincero io non avrei servito neanche morto centomila volte meglio tanto per dirne una essere un fantesminatore sotto Zukov che ne combattere sotto Arthur Harris devo essere sincero ma 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 pur con i suoi limiti pur con il suo essere l'autore della più spietata della più feroce campagna di bombardamento strategico della storia Harris non fu mai un criminale della statura di Himmler di Heidrich di Eichmann o di Dirlewanger Harris non pianificava cioè Harris ha ucciso persone innocenti i bombardieri di Harris hanno ucciso persone innocenti ma 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 c'è una certa differenza tra il bombardamento di Dresda tanto per fare l'esempio più clamoroso è una cosa oscena come Babi Yar o come Marzabotto cioè una cosa è una cosa molto differente perché nonostrante tutto quello che si dice lo ripeto per l'ennesima volta Dresda Dresda il capolavoro tra virgolette di Harris ok Dresda tutti i revisionisti di Stacippa a dire che Dresda era un obiettivo indifeso che non aveva obiettivi militari che era una città piena di profughi i 120 130 250 350 350 mila morti eccetera 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 è che nella maggior parte dei casi si tratta di abominevoli panzane anche nei video di questo canale ho ricevuto commenti deliranti da parte di gente che accusa il bomber commenti che accusa Harris di avere volontariamente provocato il firestorm la tempesta di fuoco su Dresda ma vi rendete conto di che fenomeno fisico è la tempesta di fuoco delle condizioni che sono necessarie allo sviluppo della tempesta di fuoco sono un pochino difficili quelle condizioni da ricreare appositamente non c'è niente da fare Dresda piena di profughi errore Dresda fin dal novembre 1944 era diventata città fortezza ovvero sia una città che in caso di arrivo dell'armata rossa si sarebbe dovuta trasformare in un baluardo in un caposaldo isolato chiuso a riccio per fermare con la sua presenza l'avanzata dell'armata rossa e nelle città fortezza nelle cosiddette festungstadt i profughi non solo non potevano fermarsi ma non potevano nemmeno transitare e a proposito di transitare lo sapete voi da dove passavano i rifornimenti ferroviari per due gruppi d'armate sul fronte orientale nella zona dell'ex cecoslovacchia e dell'ungheria a Dresda signori ve lo ripeto per l'ennesima volta ed Harris quando colpì Dresda non volle colpire la Firenze sull'elba come innocuo centro abitato dove c'erano praticelli di asfodeli e aiuole di nasturzi no? Harris a Dresda volle colpire la Silicon Valley nazista il polo tecnologico dove si producevano dove si producevano le centraline di guida per V1 e V2 che ancora colpivano il territorio inglese in maniera indiscriminata ricordiamocelo che producevano ancora il 35% delle spolette antiaeree per la difesa dei cieli del Reich quello voleva colpire Harris e se per fermare la produzione delle armi che nel 1945 ancora colpivano l'Inghilterra occorreva colpire la popolazione civile brutto dirlo Harris lo faceva ma Harris non sterminava donne e bambini colpevoli soltanto di essere per dire ebrei o essere inferiori no Harris questo non lo fece mai Harris colpiva i civili tedeschi in quanto abitanti del paese nemico in quanto persone che facevano funzionare la macchina bellica del Reich una tattica anche sbagliata vero ma che nella mentalità del personaggio era quella giusta e che è una mentalità la quale Harris e questo è la sua grande colpa una mentalità la quale Harris non riuscì mai a derogare se non dopo fortissime pressioni dall'alto da parte di Churchill da parte di Roosevelt da parte del suo collega Arnold e da parte indovinate un po' di chi di Stalin a proposito piccola cosa ricordatevi una cosa è stato spesso detto che il bombardamento di Dresda sia stato fatto per impressionare Stalin sulle capacità di distruzione del bomber command errore fu Stalin stesso a chiedere insistentemente di bombardare Dresda perché Dresda era il nodo logistico che riforniva due gruppi di armate lo ripeto Dresda era il nodo ferroviario che riforniva due gruppi di armate sul fronte orientale ex Cercoslovacchia e Ungheria dipendevano a livello logistico dallo scalo ferroviario di Dresda e fu per questo che Stalin in persona chiese di far bombardare la Firenze sull'Elepa Harris che finalmente come dire aveva portato tra virgolette alla perfezione le tattiche di bombardamento del bomber command la fece colpire Harris era un tecnocrate Harris faceva il suo mestiere e il suo mestiere era quello di bombardare la Germania era un professionista ma non era un assassino freddo e spietato per quanto possa sembrare strano per quanto sia un concetto difficile da digerire sono passati più di 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e ora di dirlo Harris non era un santo Harris era un uomo ripeto duro e spietato ma Harris non era un assassino a sangue freddo ripeto le vittime civili sulla Germania e sull'Italia anche furono effetti collaterali Babi Yar Marzabotto Lidice Oradur Sant'Anna di Stazema furono stragi volute e pianificate apposta e c'è una profonda e grande differenza tra queste cose e ricordiamoci una cosa i tedeschi non si comportarono come Harris perché non erano in grado altrimenti avrebbero fatto ben di peggio e quello che combinarono su Londra nel 1940 e ne era solo un'impressione se solo la Luftwaffe non si fosse concentrata esclusivamente sul bombardiere medio di appoggio all'esercito avanzante perché l'Enckel 111 lo Juncker 78 il Dornier 127 ovvero sia i tre bombardieri con la quali la Luftwaffe iniziò la guerra non furono mai armi strategiche furono arrangiamenti non erano in grado di fare i bombardieri strategici perché erano nati come aerei da bombardamento medio di supporto alle truppe avanzanti ma come bombardieri strategici non erano adatti perché non avevano sufficiente autonomia non avevano sufficiente carico di bombe non erano sufficientemente come dire non erano progettati per quello scopo la Germania non aveva una forza di bombardamento strategico ma la Royal Air Force era una forza il bomber command della Royal Air Force era una forza di bombardamento strategico e questa la differenza tra la Luftwaffe e la Royal Air Force la Royal Air Force colpiva gli obiettivi strategici la Luftwaffe non era in grado la Royal Air Force colpiva in maniera dura e feroce le città tedesche la Luftwaffe non era in grado ma se ne fosse stata in grado avrebbero fatto ben di peggio rispetto alla Royal Air Force fidatevi tutto qui basta semplicemente leggersi i programmi che Hitler e i suoi come dire sottoposti avevano per la per l'Inghilterra o per la Russia signori è tutto qui per quanto fosse duro per quanto fosse spietato lo ripeto per l'ennesima volta The Butcher Harris il macellaio non fu mai lontanamente paragonabile a quello che riuscirono a combinare i tedeschi soprattutto sul fronte orientale cari signori cari signori paragonare per esempio un errore un clamoroso e tragico errore di puntamento come quello dei bambini come quello che costò la vita ai bambini della scuola di Gorla ce ne vuole di stomaco a paragonare un errore di puntamento come quello che costò la vita ai bambini della scuola di Gorla a una strage a sangue freddo come quella di Marzabotto ce ne vuole di stomaco ce ne vuole di stomaco ma qualcuno lo fa ce ne vuole di coraggio a paragonare Dresda a Babi Yar ma qualcuno lo fa qualcuno perché dire tutti i colpevoli quindi nessun colpevole i poveri tedeschi massacrati in casa dai crudeli bombardieri della Royal Air Force sì sì ma perché i bombardieri della Royal Air Force e i bombardieri americani colpivano la Germania chiedetevi questo signori chiedetevi questo perché e soprattutto si può paragonare la campagna di bombardamento o anche le bombe atomiche sul Giappone a cose come lo stupro di Nanchino come l'unità 731 come le offensive del riso come i battaglioni delle lenzuola di seta le comfort women le migliaia le centinaia di migliaia di stupri perpetrati dei giapponesi e per fermare quel mattatoio sganciare due atomiche ci vogliono due atomiche per convincere i giapponesi ad arrendersi e a porre fine alla guerra ma questo qui no in certe teste non entra crimine di guerra supremo abominio crimine contro l'umanità signori siamo sinceri siamo sinceri se non fosse stato per la campagna di bombardamento in occidente da parte della Royal Air Force e da parte della US Army Air Force la guerra sarebbe continuata almeno per altri 4-5 anni e se non fosse stato per le bombe atomiche il Giappone non si sarebbe mai arreso ricordatevi una cosa Downfall e Coronet l'invasione del dell'invasione del Giappone metropolitano se non fosse stato per le atomiche cari signori ci sarebbero state milioni di morti molti di più rispetto a quelle delle due bombe atomiche ma questo qui niente la bomba atomica le bombe atomiche sul Giappone crimine contro l'umanità la mia è un'opinione personale sarà discutibile quanto volete ma se non fosse stato per le due bombe atomiche la guerra in Giappone sarebbe finita negli anni 60 e ci sarebbero state decine di milioni di morti tenete presente una cosa tenete presente una cosa ancora dal 1945 gli Stati Uniti usano le Purple Heart fabbricate nel 1945 per l'invasione del Giappone lo stock di Purple Heart che è la medaglia che gli americani destinano danno ai feriti in servizio il Purple Heart ancora gli americani usano le medaglie coniate nel 1945 per l'invasione del Giappone ne fabbricarono circa un milione e mezzo e se non fosse stato per le atomiche non sarebbero bastate pensateci per queste cose e ripeto e ripeto a costo di fare polemica gratuita a costo di sembrare antipatico a costo di dire una cosa che sembra una bestialità Harris per quanto crudele per quanto duro per quanto spietato per quanto macellaio non fu mai niente di paragonabile alla canaglia nazista difficile da digerire per certe persone non mi vergogno a dirlo ma 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 Harris per quanto fosse un uomo spietato non fu mai un assassino a sangue freddo come coloro che in cinque anni e mezzo di guerra assassinarono sul solo fronte orientale più di venti milioni di persone tutto qua quindi cari signori vedo che subito questo video farà parecchio rumore questo video è durato anche troppo perché sono quasi tre quarti d'ora di video ripeto spero di non averne annoiato spero che riusciate a seguire il concetto spero che abbiate capito quello che volevo dire spero di esservi spiegato bene e niente come sempre signori aspetto i vostri commenti aspetto le vostre considerazioni aspetto che mi diate le vostre opinioni su quello che ho detto e soprattutto ricordo una cosa a certa gente io ci metto la mia faccia io ci metto il mio nome Metal Mike Freeman che in realtà il mio vero nome è Michele Spadone lo sapete bene anche quindi cari signori ripeto io ci metto la faccia io ci metto la mia persona a dire queste cose a esporre le mie opinioni e non mi vergogno di esporre e a coloro che mi criticheranno e so già che mi criticheranno so già che salterà fuori la solita canea dei fenomeni paranormali che me ne diranno di tutti i colori e ce n'è qualcuno e sapete bene a chi mi riferisco ma contrariamente alla maggioranza dei personaggi anonimi che mi insultano io ho ho il coraggio di metterci la mia faccia io ho il coraggio di metterci il mio nome io ho il coraggio di espormi in prima persona perché? perché con tutti i miei limiti con tutti i miei difetti con tutte le mie come dire falle e i miei limiti culturali i miei limiti di formazione culturale io espongo le mie opinioni e sono anche disposto a cambiarle perché lo cambiate più volte nel corso della vita quando mi sono accorto di credere in cose sbagliate ricordatevi sempre cari signori quando certi signori quando ascolteranno le parole di questo video dovranno rendersi conto di una cosa che Oscar Wilde aveva ragione è meglio tacere e lasciare il dubbio di essere cretini e non aprire bocca e togliere quel dubbio pensateci bene signori prima di criticarmi a vuoto o di insultarmi dei vostri insulti di certi insulti degli insulti di certa gente io ne faccio una medaglia al valore perché? perché non dico di essere nel giusto io espongo le mie opinioni espongo le mie opinioni mettendoci la mia faccia espongo le mie opinioni esponendomi in prima persona anche se tramite youtube ma voi che starnazzate cose a caso su onore fedeltà partigiani cattivi povero duce povero hitler la storia scritta di vincitori eccetera eccetera dietro l'anonimato di canali senza contenuti senza una foto senza un video io sono una persona voi che cosa siete cari signori pensateci bene vabbè signori ok spero che questo video vi sia piaciuto ripeto aspetto i vostri commenti e come sempre tanto per cambiare arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao